3, 2, 1, via! Dove puoi sparare perché sennò qua si bobbiamo e basta! Devo pure arrivare senza... irassistire! No, fra aspetta, mi sono inviaggiatissima! Vabbè vincito in testa e 40 qua! Ho iniziato a iniziato sopra, ho visto due, due, uno, via! Diciamo che se evitassi di cascare sarebbe molto più bello, eh, per entrambi. No, fra mi sono giro a telescari, no, 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 vedi già adesso un po' più equilibrato, cioè. Cioè, almeno mi riesco a girare in te, vabbè. Cioè, come mi spiego come la tua scala passa alla mia. Qua devo pure un po' sparare sennò, oh, non mi piglio, vabbè, come prendere le ground, vabbè. Fra, come hai fatto a mettermi le scale là dietro? Non puoi più buildare, non puoi più buildare, ho visto. Ti ancora! Ti ho detto! Ciao! Si è morto! Te l'ho detto non puoi più buildare, tu puoi avvisare. Prima che stacco, veloce, veloce, veloce! Eh? Sei forte, Alipo! 3, 2, 1, via. Ecco io non posso, non dico via, eh. Aspetta un pochino perché so che ci sta un minimo di ritardo. Guarda. Allora... Ma ci hai tolto due? Oh mio Dio che ti ho fatto? Cosa ti ho fatto? 3, 2, 1, via Manco ho detto via pezzo di merda Esatto così ce l'ho Minchia hai scavato un colpo Invece ti hai rubato di volta un tappo No Cos... Toittato Ehi I due trappi li trovi Questa cosa qua Ma non le uso qua Le uso perchè almeno... 3, 2, 1, via Quanti sono tutti 10 Non ti ho tolto su Non ti metti nel pente Ma sei già là sotto no? Ecco Dio Oh Ah c'hai un tumore però Che c'hai un tumore? Non posso morire di questo? Stiamo litigando David Sì di merda Oh che cazzo fai? Devo fare la base 10 Oh cristo Mi sembra solo alla fine Vediamo Una alla fine Tutto giusto Tutto giusto Cazzo GG Sì 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 Ora E ha capito perché Oddio ci non ho fermo a cross the map Oddio Oddio 249 metri Porca pav... Quello sopra è quello di qui Sì Oddio 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 3, 2, 1, via Dove vuoi sparare perché sennò qua si vediamo e basta Mi devo pure arrivare senza di assistire No, aspetta, mi sono inviaggiatissimo Vabbè, 22 in testa e 44 No Eh, eh, eh Mi hai messo il pernizzo sopra, hai visto 2, 1, via Diciamo che se evitassi di cascare sarebbe molto più bello, eh, per entrambi No, Fram, mi sono girate le scar- No, no Vedi già adesso è un po' più equilibrato, cioè Cioè, almeno mi riesco a girare in tempo Vabbè Cioè, con me mi spiego come la tua scala passa alla mia Qua devo pure un po' sparare, sennò, oh, non mi piglita, vabbè Come prendere le ground Fra, come hai fatto a mettermi le scale da dietro? Non puoi evitare, non puoi evitare, oppure abbi- Te l'ho detto, non puoi evitare, tu puoi evitare Prima che stacca, veloce, veloce, veloce Eh? Sei forte, libero 3 2 1 Via Attacca, io non posso, non dico via, eh Aspetta un pochino perché Non so che c'è un minimo giro di ritardo Guarda Ma ci ha tolto due Oh mio giro, che ti ho fatto? Cosa ti ho fatto? 3 2 1 Via Manco ho detto via pezzo di merda Esatto, così ce l'ho Esatto Ok 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 Minchia è scato un colpo Invece sei un impatto di vostra Un tappo Noo Cosa Toittato Ehii I tuoi trappoli li trovi? Un tappo Un tappo Questa cosa ha fatto? G. 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 More, porco Dio Ah non le uso, qua Le uso perché... No! 3 2 1 10 non ti metterebile come sei già lassù ma c'è il tumore però c'è il tumore non posso modificare stiamo modificando te per sé di merda oh che cazzo fai la scalpe aspetta per me devo fare la base 10 oh cristo mi sembra solo una fila affilato vediamo una alla fine tutto giusto cazzo gg 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 249 metri cazzo gg cazzo gg cazzo gg cazzo gg